Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di Joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno e come ogni giorno ragazzi andiamo subito a vedere oggi chi è il vincitore della ruota e vince amo anime facciamo subito il gel ragazzi bentornati in questo unissimo video io sono Cecchinato e oggi siamo in unissimo video di nuovo su la nuova stagione infatti oggi sarà un video incentrato sulla stagione 4 andremo infatti a vedere delle novità delle informazioni che sono state trapelate sembrerebbe da un leaker affidabile vi informo subito che potrebbero alcune essere anche false quindi prendiamole con le pinze detto questo però prima di vederle like se non sei ancora iscritto iscriviti con la campanellina condividi il video e ti ricordo anche il mio canale di Telegram che trovo in descrizione detto questo partiamo subito ecco qua la prima parte ragazzi della lista di questo leaker come possiamo vedere la prima ci dice subito che la nuova stagione non sarà tema Marvel come in tanti pensavano ma bensì ragazzi sarà una stagione basata sui viaggi di tempo e sulle creature quindi questo sembrerebbe essere il nuovo tema della stagione 4 infatti era abbastanza improbabile in effetti che era proprio tutta tema Marvel ma non escludetela lo stesso magari qualche collaborazione comunque arriverà ma quello che è importante è che non sarà insomma tutto il passo a tema Marvel come pensavano alcuni si passerà quindi la stagione su questa tematica qua sarà anche secondo me molto importante comunque sempre l'albero della realtà ragazzi che secondo me sarà infatti quello che ora sto facendo delle teorie ovviamente però secondo me sarà quello che ti permetterà in qualche modo di viaggiare nel tempo come lo è stato in effetti proprio nella mappa attuale tutte le radici della realtà infatti hanno portato indietro diverse location dei vecchi capitoli quindi sembrerebbe che questa nuova stagione si possa basare sui viaggi del tempo e su delle creature che molto probabilmente si riferisce questo perlopiù ad Halloween infatti adesso ci arriviamo andiamo avanti gli alberi sulla mappa hanno infatti cercato di fondersi con il punto zero nella speranza di terraformare l'isola ma questo è andato storto causando una spaccatura temporale attraverso la mappa che depone le uova in diversi location credo che si possa tradurre da tutto il tempo e causando il ritorno di zombie e altre creature tra cui raptor quindi praticamente c'è un probabile ritorno anche non solo di location magari di vecchi capitoli eccetera come anche armi perché dopo lo andiamo a vedere ma ci potrebbero anche essere i ritorni delle creature ovvero il ritorno di zombie in occasione di Halloween il ritorno dei veloci raptor eccetera ma oltre alle creature ai vari insomma luoghi la spaccatura del tempo influisce anche sul lutto come vi dicevo prima quindi sulle armi che sembrerebbero che durante la stagione possano cambiare ogni giorno addirittura qua dice lo vedo un po' difficile però qua dice ogni giorno non so mai più che ogni giorno magari ogni settimana oserei dire e quindi attraverso insomma queste spaccature del tempo possono arrivare armi di tutte le stagioni quindi anche quelle che abbiamo avuto nel capitolo 1 capitolo 2 tutte queste armi possono ritornare magari ogni settimana qua dice ogni giorno ogni giorno insomma la vedo bella dura però mai dire mai poi ragazzi qua dice e qua aiutatemi voi perché non ho ben capito a chi si possa riferire questa donna albero che è mostrata nel teaser adesso non mi viene in mente niente se avete idee scrivetemelo ovviamente qua sotto nei commenti comunque dice che questa donna dell'albero mostrata nel teaser non è un gigante ma guarda l'isola da un ologramma all'interno della gigantesca nave spaziale last reality appena fuori dall'anello sarà anche nel pass battaglia quindi questa questo personaggio femminile sarà nel pass battaglia che io sinceramente non riesco ad associare insomma nessuno se avete idee qua sotto nei commenti ditele altro ritorno molto importante della dottoressa slona ragazzi infatti sembrerebbe che possa tornare esattamente nella prossima stagione infatti con la spaccatura del tempo viene creato un colpo istantaneo dove lei praticamente viene raffigurata come un eroe adesso quindi vedremo un attimo poi come si evolverà la storia per il momento abbiamo solo queste informazioni della slon poi freddy arriverà a ottobre altre skin di resident evil arriveranno su fortnite presumibilmente nello shop credo e poi tema molto importante di questa nuova stagione ovviamente l'evento di halloween e come possiamo vedere abbiamo già qualche novità infatti sarà simile l'evento di halloween nuovo a quello del passato che ti ha permesso di essere un fantasma quindi credo che si parli comunque dell'halloween 2019 che con le pietre ombre potevate essere dei fantasmi ma anziché essere dei fantasmi possiamo essere degli zombie e sarà la modalità principale di questo nuovo evento di halloween che ovviamente sarà a parte a quella del normale battle royale e non dimentichiamoci ragazzi che oltre questa modalità abbiamo anche la ltm dove c'è il boss del mostro di salva al mondo sicuramente avrete già presente questo modo chi è e con questo boss come proprio nel 2019 in un vecchio evento di halloween bisogna uccidere questo boss e da questo boss ovviamente una volta vinta la partita almeno quello che era successo ovviamente qualche anno fa una volta che distruggevi cioè che uccidevi questo boss ti davano delle ricompense gratis probabilmente potrebbero arrivare quindi anche delle ricompense associate a questa nuova modalità dove praticamente devi uccidere questo mega boss tramite ovviamente all'aiuto di altri giocatori mi sono scordato di darvi una grande novità anche per quello che riguarda il pass battaglia che è tra le altre cose in questa lista infatti come possiamo vedere il pass battaglia ragazzi avrà una skin totalmente sembrerebbe personalizzabile femminile nel prossimo pass quindi come ad esempio abbiamo avuto recentemente in questo pass battaglia la skin tutta mega personalizzabile no anche parecchio strana che potete metterli in qualsiasi parte del corpo insomma personalizzabile avremo anche una skin personalizzabile ma stavolta femminile nel prossimo pass battaglia come possiamo leggere infatti il pass battaglia avrà una skin femminile personalizzabile con diversi pezzi di costume sbloccabili a tema attorno a personaggi diversi ok qua è un po' tradotto così così ma credo che il senso della traduzione sia che praticamente questa skin avrà delle personalizzazioni di diverse parti del corpo a tema di personaggi diversi quindi credo che sia ad esempio che alcuni pezzi siano magari che ne so della dottoressa slone altri pezzi siano che ne so di un'altra skin presente in scorsi pass battaglia o dello shop quindi credo che si riferisca a questo quindi ci sarà questa skin femminile personalizzabile che potrà cambiare aspetto potrà cambiare parte insomma della tuto o comunque del corpo in base ad altri personaggi che sono già su fortnite credo e poi se andiamo comunque a leggere dopo scrive una ragazza orso demone con un altro orso dentro i ruoli poi dice di essere un po' confuso su questo lì che lo siamo anche noi da questa fantastica traduzione però diciamo che il senso comunque è questo di questa skin del pass battaglia tra altre cose vi faccio anche vedere due skin che sono presenti nei vari sondaggi epiche che potrebbero riferirsi a questa diciamo descrizione che hanno fatto quindi alla sinistra vedete quest'orso di cui viene descritto che c'è un insomma una ragazza dentro l'orso potrebbe essere questo mentre alla destra dovrebbe essere la versione dottoressa Sloan versione eroe che tra le altre cose magari la potremo anche vedere nel pass prossimo questo ragazzi era bene o male tutte le nuove informazioni sulla nuova stagione fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questo nuovo pass di queste nuove tematiche insomma scoperte anche per quello che riguarda il futuro della storia di fortnite e noi direi che ci vediamo domani like mi raccomando se non sei ancora iscritto iscriviti ci vediamo domani alle 13 bella ciao a tutti Grazie a tutti.